In collaborazione con Iperal Supermercati Eccolo il mio orto botanico Ma che bello Raccolgo il timo al buon marginato Per il nostro risotto Che profumo Vado subito dai legna che mi aspetta Ciao amici di Unica TV Bentornati con Cucina d'Autore Sempre in compagnia di Luigi Gandola Ciao Luigi Ciao Elenia Pronto? Perché oggi andiamo a impastare Eccoci qua Allora cosa andiamo a preparare oggi? Ora prepariamo praticamente Quattro impasti Corretto E poi andiamo pian pianino ad aggiungere gli ingredienti Ok Quindi aggiungo soltanto all'inizio il lievito Llievito madre disidratato E lo zucchero Lo zucchero Poi facciamo che gli ingredienti a secco si miscelino E vado ad aggiungere inizialmente l'olio e poi a seguire l'acqua Ok Olio versato E adesso l'acqua Siamo poco per volta Ok Fino a che prende bene Così l'impasto deve sviluppare una corda La corda è data dalla forza della maglia glutinica Infatti su queste farine è molto bello Perché si trovano poi le varie forze della farina Quindi adesso stiamo utilizzando una farina V280 Che è la forza della farina Perfetto Quindi si crea la sua maglia glutinica Noi pian pianino quando l'impastatrice sforza Andiamo ad aggiungere ancora acqua Adesso è l'ora del sale Lo aggiungiamo solo quando una volta il lievito sia incorporato Ok Quindi adesso inseriamo il sale E poi con l'aiuto dell'acqua Poi ritorna nell'impastatrice Andiamo ad accelerare Proprio perché Luigi così tutto il composto Possa diventare sempre più unito Corretto Sì 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 Lo facciamo girare per 5 minuti Ok Senza scaldarlo troppo Calcolando che se abbiamo un'impastatrice da 7 kg Sì È importante fare 800 grammi Un chilo massimo di farina Non esagerare E adesso poi cosa facciamo nel frattempo Che per 5 minuti il nostro impasto Diventara sempre più unito Cominciamo a preparare gli ingredienti per il prossimo impasto Ok allora direi Facciamo continuare il nostro impasto per altri 5 minuti E poi torniamo con voi Allora Luigi Impasto pronto Facciamolo vedere Eccolo qui Guardate quanto è bello E siamo pronti per continuare Allora Lo lasciamo riposare Lo lasciamo riposare Sul tavolo Ma comunque è pronto per poi essere lavorato Vediamo che comunque abbiamo ancora un'integralità molto bella Si Vede la presenza anche delle bucce Comunque del grano Perché questa è una farina semintegrale Quindi ricordiamo farine di molino colombo Quindi adesso le lasciamo riposare un attimino E cominciamo a preparare il secondo impasto Ok Quale facciamo? Ora prepariamo a questo punto Sempre comunque con una farina grossolana Ma con una miscela di grai antichi Quindi qua abbiamo una farina zero Normalissima Perfetto Quindi consigliato anche Soprattutto per pizza e focaccia Spostiamo qui Quindi andiamo ad aggiungere anche il lievito madre disidratato E lo zucchero E andiamo alla planetaria Cominciamo ad impastare Prego, lascia a te Quindi pure col gancio Quindi in questo caso adesso andiamo a miscelare le farine E andiamo ad aggiungere l'acqua Può essere che magari in questa preparazione È la ricetta che vi abbiamo dato il riferimento Bisogna fare attenzione magari di non aggiungere proprio tutta l'acqua Ok Perché è più tenero come impasto Ok quindi Più è duro il grano Più beve acqua Ok E poi soprattutto poco alla volta Sì Andiamo a mettere nella fase interna Intermedia l'olio Infine andiamo a riaggiungere il sale Ecco Ormai il lievito ha fatto il soccorso Si è ben ingomendato Prego E ti passo sempre l'acqua E poi l'acqua corretto Sì sì Grazie Ok noi impastiamo per altri 5 minuti E torniamo di nuovo da voi Allora amici abbiamo ottimizzato i tempi Abbiamo già i nostri 4 panetti Ma Luigi spieghiamo la differenza tra ciascuno Perché sono differenti Ora qui abbiamo 0 con all'interno i semi di girasole Li andiamo anche a rinfrescare Andiamo a rinfrescare Ora io rinfresco quindi quelli 0 Quindi questo è lo 0 che poi sarà anche parte della pizza Tu rinfreschami gli integrali Quindi l'uno Io nel frattempo porziono circa 200-250 grammi di prodotto Andiamo a pesarlo Ok eccolo qua Perfetto puoi metterlo là E andiamo a darli leggermente A rotondarli con le mani Si possono usare anche tutte e due le mani Questo movimento Stai cercando di lavorare sul tavolo Ok E poi per realizzare la pizza A questo punto ci serve un aiuto Quindi mettiamo un po' di questo Questo al centro O cosa facciamo adesso? Ora ognuno ne farà due Quindi facciamo quattro pizze Perfetto Mettiamo l'impasto Quindi sul fondo un po' di fette Ma neanche tanto Nel senso sì sì Poi la prendiamo con le dita così E ci aiutiamo Piano E poi la giriamo ogni tanto così Puoi anche fare così se preferisci Cerchi di tirarla anche dove lei non lascia andare Cercando di non forarla Ok ci siamo Adesso quando siamo raggiunto questa consistenza Le lasciamo provvisorie qui sopra E altri panetti Ne facciamo altre due Facciamo un altro Con il palmo della mano ci aiutiamo E poi andiamo ad aprire Sì ma ne è sempre bella elastica Comunque è una farina molto tenera Piano piano senza esagerare E non evitare di rompere Tiriamo sempre il cornicione Ma comunque lo lasciamo Bello di consistenza Se scivola poco me lo dici Che andiamo ad aggiungere Guarda io recupero quella che c'è Giriamo Ok adesso le facciamo riposare Ancora un attimino Da quest'altra parte E ci prendiamo un consegno Le prime due che facciamo Delle margherite rivisitate E andiamo a farcire quindi Ora andiamo a riprenderla E noterai che la senti più leggera Sì è vero Quindi a questo punto Devi soltanto finire La forma Sul dettaglio E allargarla un po' Ma non molto Anche perché vorrei lasciare un po' il cornicione Certo Ora se vuoi fare il cornicione Devi lavorare a due centimetri dal bordo In questa maniera Così Fala rotolare e lasciare Ok Lavorare in giro Quindi per chi volesse Lasciare il cornicione Lavoriamo a due centimetri dal bordo Dopo poi rimane l'anello Che poi gonfia Quindi puoi prendere la placca Alla tua sinistra Sì Indicativa è usare una placca D'alluminio forata Così scambia bene Io prendo la mia Vai metti pure Eccola qua Faccio spazio anche alla tua Grazie Ci stiamo Ci stiamo La giro Poi prendi pure la passata di pomodoro Non salata Quindi non mettiamo a questo punto Il sale Bene Ancora un po' per piacere Ancora un pelino Ok Diciamo al contrario Così provi Guarda che la pizza ogni tanto La faccio anche a casa Io non avevo dubbi Non avevo dubbi Perfetto Questa è una pizza Abbiamo deciso di fare una pizza Un po' laghe Quindi abbiamo preparato I misoltini Nel contenitore Eccoli qua Verdi Che potete vedere I contenitori verdi Sono dei misoltini Cotti alla griglia E puliti Sì 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 Distribuiamoli nelle due pizze Benissimo Perfetto Ti aiuto Se vuoi che faccio l'altra Così nel frattempo Mi puoi passare il formaggio Sì Eccolo qua Sì lo tagliamo E facciamo delle fette Dei cubetti Come preferisci Cosa dici Ma io metterei Se ti va delle fette Che dici Ok perfetto Ora posso lavorare qua io Tenetelo bene Ecco qua Stiamo Facciamo ordine Questo è il semigrasso Della latteria di Bellagio Ok Io te ne preparo così Vanno bene? Sì Ok Te le lascio qua Mi spezzo Come vuoi Se mi passi ancora una fettina Vai sono pronte Ti aspettano Abbonda Perché poi Sì infatti Mi piace abbondare Al massimo Faccio anche la tua Posso? Sì sì Grazie Così E poi possiamo personalizzare A piacere Io consiglio un filo d'olio Si può mettere sia crudo Che prima di cuocere Ma dato che noi cuociamo Comunque con un forno tradizionale E rimaniamo Con gradazioni basse Non lo bruciamo In pizzeria lo aggiungono alla fine Perché comunque si brucia E andiamo a aggiungere Un pochino Ecco le pronte Adesso le lasciamo a riposare Ne proviamo altre due classiche Dai non vedo l'ora Facciamole riposare Quindi preparo Ancora il panetto Io faccio sempre il tuo consiglio Dei due centimetri Sì Sì è chiaro che poi Il cornicione si dà anche Dal tipo di grano Che in questo caso Può avere il massimo Ma anche dalla temperatura Che cuociamo in forno Noi utilizzando un forno tradizionale Non un forno a legna Non avremo di sicuro Un cornicione molto alto Ma Però possiamo ricrearlo Certo Ok io direi che ci siamo Anche per qui E poi ovviamente Andiamo di mozzarella Abbondiamo con questa Che è una mozzarella fresca Quindi tende a A sciogliersi Consiglio per evitare Che si possa creare dell'acqua Noi l'abbiamo già aperta In precedenza Però in ogni caso Quando si usa in un forno tradizionale Lo sciocco è inferiore Ma comunque bisogna fare sempre L'attenzione di toglierla Magari 3-4 ore Prima dell'acqua di governo Sì sì Perché il liquido Che c'è nella mozzarella È semplicemente un conservante Però che l'ha in zuppa Come una spugna Allora aggiungiamo L'origano Che abbiamo alla sinistra Ok Quindi puoi aggiungere sopra Perfetto Io poi vado a concludere Sono bellissime A concludere con Un filo di olio Lasciamo riposare anche queste due Ok E fra 11 minuti Le inforniamo Quindi Le nostre pizze sono pronte Andiamo a farle riposare Poi le mettiamo in forno E torniamo quando saranno Belle e anche pronte da gustare Grazie a tutti Luigi Le nostre pizze Oltre ad essere belle Sono pronte Quindi io direi Di andare ad assaggiare Che dici? Assolutamente sì Quale preferisci? Margherita Perfetto Nulla contro Però io sono Per la tradizione Sono tradizionalista Perfetto Appena scegliamo Trasfornata Quindi io Mi sto andando a sacrificare Per voi Grazie Anche tu eh Certo Andiamo? Un cin cin Buona 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 Io direi Luigi Andiamo a fare i nostri panetti Andiamo Corriamo Continiamo Mangiamo E siamo subito da voi Per quanto riguarda la pizza È importante avere una farina molto debole Se riusciamo ad avere una doppio zero Come ai vecchi tempi Ma sempre bene Una farina non forte Non troppo ricca di glutine E quindi una farina Che ci dia Di sicuro soddisfazione Anche dal punto di vista dell'elasticità Cosa che non si può Nel caso abbiamo una farina forte Ricca di glutine L'elasticità È di sicuro presente Ma rende comunque possibile Un problema durante la cottura Quindi è creare l'impasto velo morbido Ve lo molle Poi con una cottura veloce Sistemiamo il tutto Se noi ci usiamo un impasto ricco Di glutine Molto forte E molto ricco di corda glutinica Creiamo poi una consistenza Troppo rigida e croccante Un po' come quando si usano le semole Adesso è il momento di fare i panini Giusto Luigi? Giusto Giusto Ne facciamo di quattro tipi diversi Inizio da quello con i girassoli Perfetto Vuoi una mano? Allora io adesso sì Direi che lo taglio Tu lo ripassi ancora come prima Il solito meccanismo di prima Sì Più dolcemente Che adesso è più lievitato Ok benissimo Te lo ripasso? Lo ripassi Io faccio una biscia E tu dopo andrai a tagliare Dei piccoli bocconcini da 20 grammi Ok Inizio ad accendere la bilancia Ok Da 20 grammi mi hai detto Vediamoli bene 20 grammi deve essere Ok Giro Metto qua giusto? Sì 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 Ok Ne abbiamo quattro E poi vedo qui dei semi Sì In questo caso metteremo il girasole Quindi giriamo bene col palmo Vedi così Tac Chiudi anche la mano un pelo Che è più facile Così E poi Fai tu che sei più bravo No no è facilissimo Guarda Prendi Bagni Torni indietro E poi siamo a posto Allora Allora Facciamo qui Luigi Luigi Ci sta Ci sta Adesso Facciamo l'integrale Ok Ti do una mano Andiamo sempre a tagliare Io come hai detto tu Ridò vita Sì Ok Giusto Quindi queste ne facciamo Quattro Natur Integrali Ok Sempre 20 grammi Giusto L'uno Sempre 20 Sì Ok E prendete tutti i giorni Facciamo il pane fresco Focaccia Dove metto qua Luigi Sì Nell'angolo Benissimo Ok Adesso facciamo altri quattro E li coloriamo Sempre del gusto integrale Con il semi di papavero Ok Sempre 20 grammi Ricontrollameli Ok Metto qua Con i pronti Sì 20 Poi vabbè Se 22 Non importa Sì sì No Anzi I clienti lasciano la mancia Quindi non ti preoccupare Va sempre bene Quindi abbondate Sì sì Con il palmo Giusto della mano Sì Puoi usare Anche la mano chiusa Come la sto facendo Usando io adesso Chiuso Proprio chiuso E poi schiacci Poi devi prendere un po' l'abitudine Ma poi da po' ti veloce Ho fatto già molto meglio Bagniamo Benissimo Facciamo ancora due tipologie A base di sesamo nero E sesamo Classico Sesamo bianco Vedi la maglia Come si sviluppa Il lievito Come è iniziato A lavorare bene Adesso questi li facciamo Con il sesamo Bianco E il sesamo nero Ok Allora ne facciamo uno Per far vedere i nostri amici Ok Pesiamo Perfetto Io non faccio uno di un colore Tu fai il sesamo nero Io faccio il sesamo bianco Va bene Ok è andata Vai più veloce Vince 3 2 1 E con questo noi continuiamo a farli Poi li mettiamo in cottura E ci vediamo dopo per degustarli insieme con un buon calice di vino Corretto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti piace? Raccontiamolo. Sì, la Sassella è una zona molto particolare per la produzione del vino rosso ed è molto leggera, molto beverina, può starci bene anche con del pesce di lago. Ok. Specialmente questa che non ha poi la riserva, quindi l'azienda Menegola fa questo prodotto che ha un invecchiamento in botte grande e poi anche questo che fa sempre la botte grande ma fa più tempo. Perfetto. C'è tipo un altro prodotto. Poi ricordiamo questo colore rosso rubino bellissimo. Allora, andiamo ad assaggiare i nostri paninetti che abbiamo fatto. C'è un girasole che secondo me sta in abbinamento al nostro vino. È perfetto. Spezzetto. Anche comunque il tipo zero, comunque che nasce da una farina molto leggera, troviamo comunque all'interno una bella consistenza che è la sua integralità del prodotto. Sì, perché al mulino hanno fatto le cose fatte bene. Mulino con l'uomo, certo. Infatti ricordiamo ora, è molto soffice ma allo stesso tempo ve lo... Sì, è chiaro che poi il soffice nel pane è anche legato alla temperatura. Chiunque, se tu metti 10 secondi un panino nel microonde, è chiaro che dopo è sofficissimo, però l'importante è che questo perduri magari domani, dopodomani e dare una... Un paio di giorni, insomma. Buono. Senti, Luigi, cin cin. E salutiamo i nostri amici. Ciao, amici. Quindi aspetta, adesso è il momento dei panini. Li facciamo, li pentiamo in forno, arrivano a destra e a sinistra per salutare e dico che i nostri panini sono pronti. E' fermo, 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 si è scopo di panino. Tanto. Tanto. Adesso diamo una ripassata ai nostri impasti. Eh. Cotta. Quindi i nostri impasti li abbiamo completati. Aspetta. Luigi, le nostre pizze, una delle... scusate, li faccio. Facciamola un'altra per sicurezza. Non devo salutare nessuno in ogni caso. No, ma devo fare una prova. Ah, è una prova, è giusto. Sì. Ok, avete appena finito di cuocere i panini, la pizza l'avete assaggiata prima, dobbiamo chiudere la puntata, dobbiamo parlare del vino, cuore le farine, integrali quella cosa che hai detto tu. Ok, grazie. Vado? Vai. Vai. In collaborazione con... Grazie a tutti. Iperal Supermercati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.